e niente la maglietta di emiliano sporca di cioccolato dovuta a un gelato mangiato sulla sdraio di sera in giardino le macchie di cioccolato non sono andate via nonostante le avessi pretrattate con uno sgrassatore un po' di delicata prima di lavarle in lavatrice quindi niente devo fare un altro trattamento utilizzerò un po' di detersivo in polvere un detersivo a marchio eco label che quindi contiene anche gli enzimi ci metterò un po' di acqua in modo di fare una specie di pappetta che poi verserò sulle singole macchie lascerò agire per un po' allora ho fatto questa pappetta con acqua e detersivo in polvere e adesso cerco di metterla sulle macchie più evidenti e la lascio agire ora lascio un po' agire questa pappetta di detersivo sulla maglietta poi sciolgo il restante quello che è rimasto in secchio con dell'acqua anche un po' calda e lascerò un po' a mollo la maglietta prima di risciacquarla e ristenderla purtroppo le macchie di cioccolata cioè se fossero state prese subito fresche sarei anche riuscita a toglierle ma la maglietta è rimasta dentro la cesta per un po' di giorni e io non sapevo neanche che fosse così in questa condizione quindi qualche macchia è sparita perché ce n'erano anche molte altre ma alcune sono rimaste vediamo che succederà dopo questo trattamento ed ecco qui maglietta tolta dallo stendino e finalmente senza macchie di cioccolato quindi la pappetta di detersivo ha fatto il suo lavoro e probabilmente sì grazie agli enzimi che conteneva gli enzimi sono queste proteine che riescono a disgregare lo sporco in maniera veloce e quindi sono sempre un valido aiuto al bucato probabilmente la maglietta sarebbe diventata anche bella bianca se l'avessi lavata a 60 gradi appunto insieme alle altre cose con il detersivo in polvere ma non era nuova appena usata mi dispiaceva subito fare un trattamento così strong e invece ecco sono stata fortunata maglietta di nuovo bianca grazie a tutti